Passione Bari Vivi le emozioni con noi La formula dell'ingaggio prevederebbe un contratto di due anni per Sogliano e un triennale per Stellone. Per il primo si attende solo l'ufficialità che potrebbe giungere dopo il 30 giugno che segna la scadenza contrattuale del DS con il Genoa mentre per l'ex attaccante del Toro dopo i contatti degli ultimi giorni sarebbe previsto un nuovo incontro nelle prossime ore. La scelta dell'allenatore dovrà comunque essere avallata nelle intenzioni della società dal nuovo direttore sportivo che avrà il compito di tracciare l'indirizzo per quanto concerne la gestione tecnico-sportiva. Scopriamo con Luca Guerra il profilo del prossimo direttore sportivo bianco-rosso. Da calciatore ha vestito le maglie di Varese, Lucchese e Ravenne e Napoli giocando in A con Ancona, Torino e Perugia. Nell'estate 2004 il ritiro dal calcio giocato. Sean Soiano è uomo di campo, classe 1971, il prossimo direttore sportivo della FC Bari 1908 ha messo insieme da professionista oltre 320 presenze e da 12 anni è passato dall'altro lato della barricata. Dal campo alla stanza dei bottoni con l'esordio a Varese nell'estate 2004. Sotto la sua gestione i Lombardi hanno realizzato la scalata dal campionato regionale di eccellenza fino alla Serie B, sfiorando anche la promozione in A nei play-off della stagione 2010-2011. Alcune scoperte da ricordare, tra cui anche i ex Biancorossi e Bagwe De Luca. Nell'estate 2011 l'approdo a Palermo, esperienza lampo archiviata in quattro mesi a causa di dissapori con il presidente Rosa Nero Zamparini. Dal 2012 al 2015 il triennio d'oro a Verona, il ritorno in A dopo 11 anni, due salvezze di fila e la scoperta di talenti come Giorginio e i Turbe. A maggio 2015 termina il rapporto con gli scaligeri, l'approdo è a Carpi. I dissapori con l'allenatore Castori sanciscono però l'addio in novembre, con arrivo a Genova, sponda rosso-blu in dicembre. Esperienza chiusa con la cessione di Perotti, il rilancio di Suso e un'agevole salvezza. Dal Mar Ligure al mare aderatico, Sean Soiano si prepara a ripartire. Intanto giungono i primi rumors di mercato. Con l'ingaggio di Soiano potrebbe arrivare in bianco-rosso il difensore greco classe 81 Vangelis Moras, in scadenza di contratto con il Verona. Il Bari deve però battere la concorrenza del crotone dell'ex Davide Nicola. Priorità per il club di Strada Torrebella anche la conferma di Alessandro Rosina. Alternativa al trequartista ex Frosinone Danilo Soddimo, che a Bari potrebbe ritrovare il suo allenatore Stellone. Passione Bari Vivi le emozioni con noi. Partner Cube Comunicazione